Una clinica mobile è a bordo di un treno che si sposta in tutto il Sudafrica, con lo staff medico e tutto il materiale necessario per i test. Una misura d'emergenza per combattere il Covid-19 nelle zone più isolate del paese, dove il numero dei casi è in netta crescita. In soli cinque giorni sono state più di 10.000 le nuove infezioni accertate. La maggior parte dei contagi, circa due terzi, è stata registrata nella provincia del Capo Occidentale. Molti di loro sono pendolari che si spostano per lavoro nell'est del paese, portando il virus anche nelle aree meno colpite. C'è gente che lavora tra Città del Capo e Gauteng. Si sposta tra queste zone del paese, diffondendo l'infezione, in un modo che non riusciamo a controllare. Lunedì scorso, una settimana dopo l'ulteriore alleggerimento del lockdown, in Sudafrica i casi erano quasi 51.000. Questo venerdì il numero è schizzato a quasi 62.000, mentre le vittime sono circa 1.300. Per contrastare la pandemia è cominciata una campagna di testa tappeto in tutto il paese, a ritmo di 15.000 al giorno, con ritardi in alcune zone legati alla mancanza di materiale o all'impossibilità per i laboratori di tenere il ritmo. Stando all'OMS, in Sudafrica ci sono quasi il 25% dei casi totali del continente.